Giacento Fiore, direttore commerciale di McNeil, ci presenta Nuvola IT Localizza, il servizio di localizzazione dei veicoli e della flotta aziendale. Quali sono i vantaggi offerti dal servizio? Il servizio localizza consente a tutti i clienti Telecom Italia di risparmiare sui costi aziendali, sul carburante, sui chilometri percorsi e di guadagnare in efficienza, in immagine e in sicurezza dei mezzi e delle persone che li guidano. Chi è il cliente tipo di questo servizio? Evidentemente tutti i clienti che hanno mezzi aziendali, quindi dalla piccola panetteria alla media azienda di manutenzione di estintori alla grande azienda di trasporti. Quanto costa? Il prezzo del servizio è un canone, incomodato d'uso gratuito, a 27 euro al mese in fattura Telecom Italia. Quanti sono ad oggi i mezzi collegati? Ad oggi i mezzi collegati sono soltanto 20.000, il target di riferimento è molto più ampio, ma Telecom ci sta lavorando.